Ha scaricato tutti i colpi della sua Glock 9 mm, 17 proiettili in totale. Una decina hanno raggiunto il fratello Lino e la cognata Rosanna senza lasciargli scampo. Ha scaricato addosso il fratello e la cognata che stavano mangiando e quindi erano assolutamente impreparati a questa aggressione. Poi quanti colpi abbiano colpito l'uno e l'altro, questo lo cercherà l'autopsia, ma chiaramente non hanno avuto scampo. Sono vittima di un complotto da parte della mia famiglia. Sono queste le prime parole del killer Massimo Pestrin agli inquirenti per spiegare il feroce, duplice omicidio. Poi ha deciso di non rispondere più alle domande del pubblico ministero. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto. Massimo Pestrin è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela con le vittime. Il momento che lui ha dichiarato nelle dichiarazioni spontanee, la lucidità e la freddezza che lui ha dimostrato subito dopo, il fatto che le vittime fossero state praticamente prese dalla sprovvista, porta a ritenerlo un gesto premeditato, un gesto che non è il frutto di una litia o di un dolo di impeto. Insomma, non un raptus di follia, ma un'azione pianificata. Secondo una prima ricostruzione, Massimo si trovava in casa. Ad un tratto è sceso dalle scale, forse già armato, poi la furia omicida. Ha freddato Lino e Rosanna. Alcuni bossoli sono stati trovati anche sulla soglia della porta che conduce al piano superiore. Dopo la mattanza è uscito, ha scarellato il caricatore, facendo finire a terra gli ultimi tre proiettili non esplosi. Pestrin forse se ne è liberato prima di confessare il dubbio omicidio alle forze dell'ordine. È stato proprio lui a chiamare il 113. L'arrestato era estremamente freddo e lucido. Ha detto all'operatore che aveva ucciso suo fratello e sua cognata e gli ha invitati a mandare al più presto un'autovettura di servizio, una volante, sul posto, dicendo che li avrebbe aspettati. Ha atteso a casa, fuori, a pochi metri da lui, i corpi senza vita di Lino e Rosanna, per lui sono scattate le manette. Da una decina di giorni lavorava come guardia giurata. Quella pistola, regolarmente detenuta, ce l'aveva da qualche mese. Nelle prossime ore si era disposto l'esame autoptico sul corpo delle due vittime.